ciao a tutti oggi prepareremo la torta pistacchiosa il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più 6 ore di riposo in frigo ingredienti sono nutella sciolta a bagnomaria biscotti secchi al cacao latte rum farina di pistacchi e granella di pistacchi diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale biscotti chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 6 andiamo un po sul fondo del boccale adesso aggiungiamo il latte la farina di pistacchi il rum e la nutella chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 4 il composto è pronto adesso lo trasferiremo in una tortiera con apertura a cerniera del diametro di 20 22 cm abbiamo rivestito il fondo con carta da forno e messo nei laterali un foglio di acetato adesso con l'aiuto di un cucchiaio lo stenderemo per bene adesso riponiamola in frigorifero per 5-6 ore o una nottata trascorsi il tempo abbiamo ripreso la torta dal frigo adesso la rimuoveremo dallo stampo e andremo a decorarla prendiamo un po di latte e spennelliamo leggermente la torta adesso completiamo con la granella di pistacchio a questo punto la torta è completa torta pistacchiosa grazie e alla prossima ricetta grazie 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 Autore dei sovrapposti